Eccoci qua, abbiamo appena finito le prove del nostro spettacolo Ragazzi Resistibili di Neil Simon, Franco Maceroli e io, Umberto Orsini, con la regia di Massimo Popolizio, che sarà nel vostro teatro in questa stagione. Franco, io pensavo fosse più lungo. No, dura neanche due ore. Meno male. Due ore. Per una cosa divertente. Che comicità. E il ritmo giusto, no? Certo. Neil Simon, uno degli autori americani più importanti. E il Goldoni del 9 cento. Ha scritto commedie straordinarie, una delle quali è la strana coppia, notissima. E questo è Ragazzi Resistibili, è un testo che Franco e io abbiamo scelto perché volevamo fare una cosa divertente per un pubblico che non ci conosce, forse in questa veste, che magari ci scoprirà. Il fatto che ci divertiamo, no? Molto. Mi sono cambiato. Sei cambiato? Sono cambiato. In che senso? Eh, guarda. È vero. Sono ingiovanito. Io sono invecchiato invece. Vabbè. Però, insomma, io sono sicuro che sarà una proposta che al pubblico piacerà. A me piace fare, a te anche, no? Allora. Quindi, se piace a noi, spero piace anche a voi. A presto, nel vostro teatro.